La bella che è addormentata, la la lai, la la lai, la la la, ha un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà. Il 15 ottobre a Roma sono convinto sia giusto manifestare, perché c'è un mondo che si muove, che parte dalla gente e non può essere fermato, c'è un mondo che si muove per abbattere il muro di una politica degli interessi privati, c'è un mondo che si muove per l'acqua, per la terra, per l'aria e questo mondo ha bisogno di ognuno di voi, ha bisogno di volti reali, non di personaggi, ma di gente vera, reale, per una democrazia reale. Il 15 ottobre a Roma sono convinto sia giusto manifestare, perché c'è un mondo che si muove ed è arrivato finalmente il momento di gridarlo al cielo. Già in tanti sono in marcia, il loro viaggio è verso il sole, se non ora, quando? Ci vediamo in manifestazione. Un abbraccio da Luca Bassanese. La bella che addormentata, la la lai, la la lai, la la la, ha un nome che fa paura, libertà, libertà, libertà.